andiamo a scoprire alcuni segnali che possiamo osservare nel sottobosco delle vere e proprie presenze di funghi che ci possono segnalare quanto sia stato un clima umido o meno piovoso siccitoso o meno all'interno di una data foresta questo perché ci sono alcune specie di funghi che amano condizioni climatiche siccitose svilupparsi quindi in seguito magari dei temporali brevissimi un filo di umidità e poi un periodo caldo che possono quindi darci il segnale di un bosco dove magari c'è stato un prolungato periodo di siccità iniziamo osservando queste specie di colore biancastro di grandi dimensioni in questo caso in un bosco di latifoglie una specie che si chiama russula cloroides che è uno dei funghi più classici che possiamo trovare in esemplari di grandi dimensioni e sovente disposti a cerchio semicerchio come vi facciamo vedere adesso che segnalano che in questo punto del sottobosco diciamo negli ultimi 20 25 giorni ci sono state sicuramente delle condizioni siccitose o comunque c'è stato un prolungato periodo dove le condizioni del bosco non erano diciamo umide o non erano quelle ideali quindi questo dettaglio ci dà un primo ragguardo ma poi prestando attenzione a quello che in questo momento è lo strato umifero notiamo come la parte superficiale del sottobosco sia debolmente umida resa umida da alcuni temporali che si sono sviluppati negli ultimi giorni parliamo degli ultimi 7 10 giorni in questo sottobosco qualcuno anche intorno al 15 giorni di distanza ma di lieve entità e quindi lo strato poi si sia nuovamente inumidito favorendo anche diciamo lo sviluppo di queste particolari specie del genere russula rendendole più belle e vivide anche perché a volte quando il clima è siccitoso queste specie del genere russula noi non le vediamo così belle e turgide come in questo semicerchio che osserviamo ecco questo era un esemplare marcescente ma a volte le troviamo quasi completamente sfatte proprio perché sono funghi che comunque amano i climi un pochino più siccitosi ma che cosa è successo poi ecco qua vediamo che le stesse russule sono andate un po a cercarsi dell'umidità quindi di fatto i temporali i pochi temporali magari intercorsi durante la stagione estiva non erano stati sufficienti neanche per la loro fruttificazione poi si sono verificate una serie di giornate temporalesche in questo bosco specifico ha piovuto 14 giorni fa 11 giorni fa in maniera più abbondante dei 14 un breve piovasco si è verificato nella giornata di due giorni fa e la giornata di ieri invece è stata attraversata da un vento asciutto e piuttosto diciamo di quelli che asciuga sotto bosco ecco anche abbastanza forte ci troviamo in un bosco esposto di abete bianco ed abete rosso ad una quota prossimale di 1500 metri di altitudine questo per darvi delle informazioni ulteriori e farvi vedere come nei punti dove la poca umidità del primo temporale quindi caduto 14 giorni fa si era un attimino accumulata di fatto segnalata sia comunque dalla presenza vigorosa dei nostri russule cloroides si possano iniziare a sviluppare altre specie che non amano climi fortemente nettamente piovosi ma amano l'umidità relativa una buona pioggia una buona quantità di acqua presente sul suolo come i porcini in questo caso boletus ed ulis non ne vedremo uno solo quindi scopriremo come in verità questa sentinella un po' più grande ci segnala che in questo punto lo sottobosco è letteralmente in fase di risveglio infatti iniziamo piano piano a camminare intorno a questo abete bianco in una zona come vediamo di radura quindi cos'è successo zona un pochino più aperta il temporale di 14 giorni fa ha sicuramente inumidito maggiormente questa zona a scapito magari dei punti più fitti del sottobosco dove l'umidità ideale per lo sviluppo iniziale del micelio si è magari registrata con 3-4 giorni di ritardo e quindi scopriamo che con queste condizioni a 14 giorni di distanza dal primo evento temporalesco iniziano a mostrarsi anche i primordi di giovani boletus ed ulis quindi una vera e propria fungaia di porcini che a poco a poco entra in produzione qui vediamo i primi due esemplari sempre intorno allo stesso albero del primo ci spostiamo con delicatezza le nostre russule che ci hanno segnalato che in verità forse le condizioni non erano le migliori ma poi proprio nella radura in questo caso al riparo dalle erbe e da questo sasso e in questo punto più umido del sottobosco ecco giovani esemplari di boletus ed ulis che cominciano la loro fase di sviluppo e fruttificazione solitamente in contemporanea ai primi bocciolotti di porcini quindi i primi giovani esemplari a distanza di 13 14 giorni dall'evento temporalesco che ne ha diciamo risvegliato gli animi e i core si sviluppa anche qualche giovane esemplare di neoboletus prestigiator o ex boletus eritropus una di quelle specie dallo stipite rossastro che purtroppo spesso e volentieri incautamente dei cercatori rovinano nel sottobosco scalciano senza magari conoscerne l'importanza dal punto di vista anche alimentare ma soprattutto dal punto di vista ecologico e qui vediamo come un altro giovane boletus eritropus fa compagnia di fatto alla prima fruttificazione dei porcini anche quindi boletus eritropus neoboletus prestigiator i due nomi sono sinonimi li potete trovare di questa specie indicata in vario modo in entrambi i modi sui libri ha lo stesso diciamo tempistica di fruttificazione o comunque richieste di necessità per svilupparsi dei primi porcini anche se in genere li può anticipare di qualche giorno quindi abbiamo detto 14 giorni dalla precipitazione chiave in questo punto del sottobosco primi primordi di boletus edulis e altri segnali altri fattori che ci ricordano però come veniamo da un periodo mediamente o intensamente seccitoso appunto i funghi del genere russula e in questo caso russula cloroides proseguiamo un attimino per vedere bene anche proprio questa radura come si sia sviluppata come fungaia e notiamo che come i primordi dei porcini iniziano a mostrarsi anche i primordi di neoboletus prestigiator a poco a poco spuntano nel sottobosco in piccolissimi esemplari quindi diciamo una sorta di fruttificazione quasi simultanea ricordiamo sempre che in linea generale neoboletus prestigiator impiega un giorno o due in meno di solito rispetto ai porcini per mostrarsi e svilupparsi ma sempre proseguendo sulla stessa linea quindi proprio dove abbiamo visto che il temporale di 14 giorni fa ha diciamo innaffiato se vogliamo questa zona questa radura boschiva aperta qualche esemplare un pochino più grandicello del nostro neoboletus prestigiator seguito quasi per magia sulla stessa linea da giovani primordi di boletus edulis quindi porcini piccolini che fanno capolino come notiamo dalla radura del sottobosco ecco questi esemplari ve li mostriamo a scopo didattico e risalendo ancora ulteriormente la radura noteremo che le presenze fungine in genere associate a quelle condizioni che si sono perpetrate in questo bosco quindi buone condizioni temporalesche 14 giorni fa o quantomeno che hanno bagnato la radura aperta e successivo temporale 11 giorni fa invece di quelli importanti giornata quasi intera di pioggia ha permesso comunque un buono sviluppo dei nostri funghi e incamminando si viene da pensare beh vediamo se nel fitto è nato qualche fungo in verità qua ci troviamo ancora nella radura aperta esposta e notiamo come in un canaletto dove sempre quel temporale magari di 14 giorni fa ha mantenuto un pochino la sua umidità grazie alla spinta del temporale delle giornate piovose seguenti un altro bolletus sedulis si è sviluppato e si è accresciuto nel sottobosco in questo specifico punto del bosco non abbiamo visto altre specie il che significa due situazioni al di là del fatto che nella radura abbiamo visto come il temporale possa penetrare maggiormente con la sua piovosità poiché il bosco è anche più esposto e altresì vero che in questa zona il sole e il calore può colpire maggiormente quindi si tratta di un punto del bosco anche un pochino più caldo e un pochino più esposto al calore questo perché il segnale di questo ci viene dato sia dalla fruttificazione precoci dei nostri funghi ma anche dalla presenza delle nostre russule che sono delle specie fungine che oltre ad amare un clima secco di fatto russula cloroides è una specie che ama anche i climi un pochino più assolati quando comunque noi osserviamo la presenza di questa russula sappiamo quindi interpretare il sottobosco dire in questo punto c'è stato caldo c'è stato asciutto però se ha piovuto 14-15 giorni fa bisogna osservare con attenzione il sottobosco perché potrebbero esserci le prime sorprese dei primi piovaschi ad attenderci e a regalarci delle emozioni ok Grazie.